Ciao, sono Ryan di Penny on Mars. E io Jack di Penny on Mars. Oggi faremo un piccolo gioco che serve a scoprire se noi due ci conosciamo davvero. Correggio, iniziamo. Adesso ci manderanno delle domande. Che cosa piace fare a Jack quando ha del tempo libero? A questa su rispondere. Davvero? Sei sicuro? Sì, sì. 3, 2, 1, in piano. Sì, risposta esatta, bravo. Hai visto? Lo sapevo che era quello. Ho preso. Un punto per te, ok? D'accordo. Qual è l'abitudine più strana di Ryan? Cavolo, è difficile. Oh, oh, ci sono, ci sono, ci sono. Inviata. Sì, anche stavolta è giusta. Complimenti, ben fatto, bravo. Ho scritto che la sua abitudine più strana è ballare continuamente, sempre. Dunque, qual è il colore preferito di Jack? Cavolo, questa non la so proprio. Vado pazzo per il nero. Il mio colore preferito è il nero. Quale cantante ama Ryan? Ci sono, ce n'è uno che ascolti molto spesso, quindi provo a scrivere quello. Pronto? 3, 2, 1, inviato. Ma che cosa sta succedendo? Mi sa già non parte. Ma l'ho scritto qua, è rass. Sì, è indovinato, la risposta esatta. Qual è stata per Jack la vacanza più bella della sua vita? Non ho idea di dove tu sia mai stato in vacanza. Ti devo indovinare, ok? Sono pronto per dare l'invio. Ok, hai fatto? È stato in Spagna, nella bella Spagna. Oh, questa è dosta, non molte persone lo sanno. E come faccio a rispondere? So dove vivi in questo momento, però non credo di ricordarmi dove sei nato. Allora, pronto a fare l'invio? Su, coraggio. D'accordo, ci sono. Sì, ho indovinato, guarda, l'ho scritto. Ben fatto, non molte persone lo sanno. Sì, amico. Sì, se lo dimenticano tutti. Prossima domanda, leggiamo. Il nostro Jack ha qualche animale? Sinora è quella che preferisco. Sei pronto a rispondere? Ho un cane, proprio come te. Sì, esatto, ce l'ho anche io. Allora, qual è la migliore qualità di Ryan? Qual è la mia migliore qualità? Ok, mettiamo questo. 3, 2, 1, inviato. Leggiamo. Ci ho preso in pieno stavolta, eh? Ok, ok, sì, hai ragione. Qual è il cibo preferito di Jack? Qual è il suo cibo preferito? Qual è il mio cibo preferito? Qual è il suo cibo preferito? Un cibo in particolare, giusto? Sì, devi scrivere un cibo in particolare, sì. Ok. Sei pronto? 3, 2, 1, mandato. Sono tutti uguali per me. L'ultima domanda. Siamo così alla fine. Su, avanti, leggiamola, forza. Ecco, ci siamo. Sono pronto a rispondere. Vado al massimo. Sono troppo toste. È difficilissima. E come faccio a indovinarlo? D'accordo. Ci provo. Allora, 3, 2, 1, e vai. Il tuo punteggio. Oh, grande. Ho vinto. Ok. Vinceremo entrambi con... Penny on Mars 3, ovviamente. Penny on Mars 3. È quello che speriamo tutti. Grazie per aver dedicato del tempo ad ascoltarci. Sì. Mi raccomando, guardate Penny on Mars. Potete trovarlo solamente su... Disney Channel. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.